salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul canale oggi vi andrò a mostrare le carte dei partecipanti alla sesta spedizione in psa cominciamo con il mostrare le mie carte allora queste sono le mie sette carte che manderò a gradare a psa come potete vedere manderò questo charizard e braixen giapponese special art è sbustato da me che vi lascio il video dello spacchettamento qui sopra le schede questo mewtwo special art anche questo sempre spacchettato da me personalmente video nelle schede mewtwo armato giapponese sigillato articuno moltres zapdos e articuno hyper dell'espansione idem fates ok trovato in una delle trettine non mi ricordo quale anche quella link il charizard promo questa bellissima triade oltre setup del certi 1 versione mosaico e questo mewtwo gx proseguiamo con le due carte di federico moriconi federico moriconi ci invia questa bellissimo charizard e braixen hyper e anche lui manda un mewtwo armato giapponese queste sono le due carte di moriconi proseguiamo con le proseguiamo con le cinque carte di federico archetti questo ultra necrozma gx gold charizard ultra shining giapponese un altro ne invia due un mewtwo incapsulato disegnato da vita e un mio coro coro sarebbe il mio shining coro coro belle sono anche queste tre carte queste cinque carte passiamo ora alla carta di matteo un bellissimo celebi crystal type in lingua inglese guarda che bello questa invece ce la manda galli filippo un mac e mac di alola gx in inglese bella poi abbiamo le sette carte di matteo questa misty trainer giapponese bannata la trainer di koga non mi ricordo bannata anche questa un bellissimo rocket moltres in lingua inglese un blain charizard un erica venosaur un blain moltres ed infine un grimmer giapponese anche questa è bannata andiamo con la carta di alberto che ci manda questo mio fu armato poi abbiamo la special art di mio e mio tu giapponese che ci manda il mio amico kevin che lui ha partecipato a tutte le spedizioni è veramente veramente bella è questa carta ora non ve la tolgo detto ploder scusate riflesso però bellissima passiamo poi alle 17 carte di riccardo romain romain passiamo alle 17 carte di riccardo romain che ci manda questo bellissimo mago nero dell'espansione non la riconosco però raro segreto in lingua inglese un drago bianco occhi blu prima edizione in lingua italiana sempre un drago bianco in lingua inglese in unlimited drago nero occhi rossi italiano brago nero occhi rossi in prima edizione poi manda i tre pezzi di exodia il proibito gamba sinistra gamba destra braccio sinistro e braccio destro poi gaia il dragone gaia il cavaliere gaia cavaliere un bellissimo charizard set base italiano unlimited poi manda le tre divinità egizie slifer drago la ferira e obelisco del tiranno poi manda un mago nero e una polimerizzazione guardate belle queste tre carte che di solito il retro delle yugi è così vedete è marrone con la scritta konami e il logo yugio invece queste tre sono le carte sono carte limited edition come potete vedere qui sullo slifer va bene e se vedete il retro sono carte blu gialla e rossa come è il fronte rossa gialla e blu andiamo con le 21 carte di manu è un ragazzo che mi spedisce sempre tante carte e queste magic allora questa io purtroppo le magic non le conosco però sono veramente veramente belle cioè guardate che bellezza di carta è questa questa me ne manda pure tre ora comincia il mio settore allora ci manda due gx di magicarp e wailord due tag team di zehrom e pikachu un rocket new two x un charizard legendary collection che rappresenta l'artwork del set base però della legendary due venosaure del set base 2 la tag team di new e new tour un aerodactyl gx slowpoke e psyduck e un dragonite hyper carino passiamo alle due carte di giovanni tinto che ci manda questo o ultra shining gx di shiny legend giapponesi e la triade promo delle vite trainer box in lingua inglese passiamo alle carte di mirko che è un ragazzo abita qui vicino a casa mia a firenze ci manda questa triade di zamoltres zapdos articuno gx una carta di yugi un drago bianco occhi blu in inglese un'altra yugi poi questo raiquaza giapponese promo rosso new del film del 2000 una pocket monster di zapdos e red e pikachu questa è diventata la mascotte delle spedizioni a psa ragazzi passiamo poi alle carte di marco e marco c ma è la sua prima spedizione che fa ci manda un mio tuo armato un mio giapponese del book uscito ora nel 2000 nel 2019 questa trainer questo bellissimo charizard breaks regular blu erica e vile flume fiammetta e torquale e questo se levi passiamo poi alle carte di mio amico giovanni guercio che saluto e ci manda un regiroc ex un pokemon day in lingua italiana perché vi ricordo che psa in lingua italiana grada solo il set base e alcune promo un venosaure giapponese e un mutuo armato lui manda anche questo celebi ex promo play perché lui l'ha comprato così però lo vuole fargli certificare per il semplice motivo è stata sbagliata l'etichetta qui c'è scritto 2005 in realtà la carta non so se di le si legge del 2003 e lui lo fa di gradare noi e io glielo manderò a far correggere questo errore passiamo poi alle carte di jonathan che ci manda questo bellissimo charizard di expedition in prima un charizard vs prima edizione un Mewtwo ultrashining un charizard team up un charizard giapponese un mio coro coro un dragonite del game boy un oho neo un crobat una promo trainer winner camilla tiranitar expedition tiranitar vs latios di alto mare vedete c'è anche qui però il simbolino vs ed infine questo bellissimo blasto svs passiamo poi a questo charizard del cp6 giapponese sarebbe evoluzione xy evoluzioni in da noi ce lo manda massimo ora passiamo alle carte di ivan che è un ragazzo che mi spedisce dalla svizzera infatti saluto ciao ivan lo ringrazio molto per darmi la fiducia di spedire dalla svizzera le carte a me in italia poi mandarle a gradare e ci manda questo bellissimo erica clefable un charizard set base italiano un blasto is set base un altro venosaur set base zapdos set base in italiano alakasam set base poi ci manda tre charizard del film detective pikachu un charizard e briksen regular 45 charizard e briksen hyper in lingua giapponese guardate bellezza sono queste cinque carte tutte insieme sono veramente veramente belle io ragazzi vi ringrazio per la mole di carte che mi avete mandato e per l'estrema fiducia che mi state dando per queste spedizioni proseguiamo sempre con le carte di ivan che ci manda un charizard e rashiram inglese un charizard e rashiram giapponese la mosaico la gx normale un machamp un giovanni smashamp giapponese un dark ampharos neo dark dragonite un jengar e mimihui un bellissimo shining heridos in lingua inglese uno shining celebi in lingua inglese un machamp set base in prima edizione italiano un raichu sempre set base in prima edizione italiano e un cleferi in prima edizione italiano passiamo ora alle 18 carte di enrico enrico ci manda questo bellissimo pikachu di munch psyduck di munch rollo et promo giapponesi sono e ivy mi mancherebbe il mimikui un altra pikachu red un grodon ex un charizard ultra shining un charizard e rashiram hyper una promo di ivy un bellissimo celebi di crystal type inglese questo mi dispiace non conosco quindi non lo nomino un hyper molto zap desertico uno giapponese un charizard full art giapponese un'altra hyper della triade però questa volta in lingua inglese poi ci manda questo bellissimo miutù promo guardate che bellezza 663 smp è veramente veramente una bella carta guardate questa è una promo giapponese un tapu koko gold un charizard di idem fates e zappto smoltress e articuno proseguiamo ora con le quattro carte di davide benaglia che ci manda una pikachu red un rapidash legendary collection reverse guardate bella sono queste oreografie questa è la prima espansione dove hanno fatto le reverse un l'attac team di latios e latias che formano un cuore e anche lui ci invia una carta di magic passiamo poi alle sei carte di lapo che è un ragazzo che abita proprio qui nel mio paese a 5 chilometri distanza da casa mia che ci manda questo bellissimo charizard set base in lingua giapponese un altro charizard set base è sempre in giapponese lui tutte giapponesi perché le giapponese sono giapponesi ragazzi un venosaura un blastoise uno mio coro coro e uno shining magi harp passiamo ora alle cinque carte di tati che ci invia questo mio full art in prima edizione mio full art prima edizione cp5 giapponese un new to armato un celebi ex promo play un espion expedition in prima edizione e un glaceon gx full art passiamo ora alle quattro carte di riccardo che ci manda la triade mosaico un nido king crystal type un charizard e rashiram regular e un charizard e rashiram hyper passiamo ora alle tre carte di roberto che ci manda questo dark blasters web venusaur web e un bellissimo mio coro 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 anche lui anche da questo giro ragazzi il mio coro coro sono stati 3 o 4 ad essere inviati passiamo alle tre carte di corrado due charizard e rashiram hyper e un celebi giapponese promo andiamo alle carte di riccardo un amico di roberto il ragazzo ha mandato le altre tre carte blasters web un flareo gold star un mio coro coro un tirannitar vs un golem crystal type un dragonite gb e questo bellissimo charizard blaine charizard guardate bello passiamo poi alle carte di thomas e ci manda questo venusaur set base italiano alakazam set base italiano raishu blastoise e un bellissimo latias gold star in lingua inglese veramente veramente una bella carta belle le costa mi piacciono un sacco forse mi piacciono più le gold star delle shining vecchie passiamo alle tre carte di giacomo questo blastoise tag team hyper un charizard e rashiram tag team hyper e un charizard e rascita normale proseguiamo con la carta di alessio che ci manda per la prima volta una carta di dragon ball guardate che bello è questo goku guardate quanto è bello questa carta di goku è veramente veramente una bella carta quasi quasi ci fa un pensierino e comincia anch'io a collezionare le carte dragon ball è fantastica passiamo poi alle cinque carte di francesco leanza che ci manda questo pikachu promo un'altra promo che non conosco roulette che sempre promo lui non conosco promo e questo kangaskan gym promo lui carte giapponesi e carte promo non si sbaglia proseguiamo poi con la carta di alessandro mosca che ci manda una zap 2 small 3 arti 1 in versione mosaico anche lui è la seconda spedizione sta partecipando ed infine andiamo con le carte di leonardo palestini che ci manda questo drago knight power monster erica e vile plum erica e vile plum erica e vile plum in tutte e tre le forme charizard e rashiram charizard e rashiram charizard e rashiram ormai li metto in fila metagross gold star in prima edizione giapponese flareon gold star prima edizione giapponese tirannitar tag team tirannitar tag team stilix nido king crystal type e kindra crystal type ragazzi anche per questo video è tutto io vi invito a lasciare un bel mi piace al video di iscrivervi al canale di condividere fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete partecipare alle spedizioni in psa vi lascio il link del video dove spiego come funziona tutto il sistema delle carte in psa ragazzi io vi ringrazio grazie per la partecipazione grazie di aver guardato il video e soprattutto ragazzi vi dico solo che voi quando vedete questo video le carte sono già in viaggio per la psa grazie a tutti ciao